allora salve a tutti oggi faremo la faremo chi che sono io farò la rigenerazione di una di un atomizzatore che è una di una dolcezza disarmante va bene il siren v1 da 25 mm questo ritrovato della tecnologia moderna modernissima è vero che ho comprato perché per un motivo ben preciso voi direte per la sua resa per la sua qualità costruttiva no perché è 25 ed è un mtl e lo volevo abbinare al mio ts mod number 25 perché mi piace lo svapo da guancia non mi piace mettere un 24 su un tubo da 25 e quindi questo è l'unico atomizzatore nero da 25 che ho trovato in commercio o per quello l'ho fatto però non ho fatto una scelta cattiva e ora vi spiego perché questo siren 25 questo siren 25 va non è non è malaccio il siren v2 è meglio per tanti aspetti ma questo si difende bene devo dire una cosa che sono rimasto così sbalordito e non ce l'avevo fatto caso quando l'ho messo nel carrello sono i fori dell'aria cioè il più piccolo misura quanto l'area diciamo in metri quadrati del lussemburgo il più grande invece è praticamente un tiro di polmone da trattamento sanitario obbligatorio che cazzo ci mettete a fare sti purtusi del genere in un mtl ma per fare che però e quindi quando mi è arrivato ho visto questi portusi qua ho detto ma che cazzo devo fare i nuvoloni con l'atom mtl però la ghiera è fatta bene e si può parzializzare volendo la grandezza del foro allora uno lo mette così viene stretto stretta comunque ti esce un tiro mtl stretto è ottimo andiamo a rigenerarlo mamma mia come sono serio oggi ma troppo serio ti sta emozionando tutto no fai bene andiamo a mettere il nostro che poi forse ci faccio un dry burn no va cambiamo poi andiamo a mettere il nostro atomizzatore vero su una pico 25 perché ovviamente questo qua è un diametro di 25 mm e su una pico normale non ci va quindi lo mettiamo su una pico 25 togliamo la coel che c'è guarda tu quando rigenere così rigenere senza tante menate senza fare senza troppe spacchiamenti così bello sereno guarda quanto ci metto ci metto poco sono più le chiacchiere ogni volta in questi video che non il tempo diciamo strettamente necessario per fare una rigenerazione allora qua ci faccio una rigenerazione da con una punta da tre che il deck è bello ampio uno due tre quattro cinque ci bastano cinque spire di 28 gouge canta alla uno senza andare a cercare fili pazzeschi della minchia tutte queste cose qua canta alla uno 28 gouge cinque spire punta da tre e lo azicchiamo va bene sotto le vitine delle torrette tanto ci va il 28 gouge lo centriamo per bene va bene lo centriamo per bene va bene e andiamo a stringere le vitine e il filo non scappa quindi non c'è bisogno di girare attorno alla vite o fare delle giravolte attorno a se stessi perché tanto il filo non scappa voilà togliamo le eccedenze anche questo come il siren v2 è molto semplice da rigenerare siren v2 secondo me ancora di più questo alcuni lo preferiranno per via delle vitine forse perché non lo so perché sono scemi secondo me ecco ecco e allora va bene va bene ecco qua qua il fatta dimmi tu quanto ci devo stare sei giorni per fare una coil 50 anni ci devo fare per ci devo stare per fare una cosa fatta bellissima aspira separate chi vuoi chi andiamo a ruotare la coil questi sono automizzatori facili abbiamo ottenuto 1,02 sì sì e la sfinciamo io la voglio sfincere questa coil assai su e la spingiamo a 12 watt ma si a 12 watt rodiamo la coil piccoli piccoli attivazioni va bene fino a che non diventa incandescento la tutto quanto guarda guarda posi l'anime guarda visto basta spegniamo la spegniamo la box mettiamo il cottone al solito va bene ci facciamo un una gelatina qua fra le dita va bene non vi leccate le dita prima di girare il cotone mi raccomando neanche se steste leggendo il il giornale sapete gli anziani che leggono il giornale si leccano si leccano il dito e poi girano la pagina e ecco qua ce lo fecchiamo qua ce lo facciamo entrando in questo modo va bene basta semplice semplice senza fare tante spacchiamenti che non c'è bisogno non c'è bisogno mamma mia guarda lo tagliamo a filo della parte inferiore del deck ecco qua ecco qua c'è voluto poi se siete particolare o sessuale ci date una sfibretina al cotone dalla parte che è stata stretta vabbè ma che cazzo ti interessa conduce lo stesso anche se lo spremi conduce un po' meno ma guarda qua c'è un deck che non finisce mai non è possibile che il cotone non si bagni neanche se è stato compattato dalle mani va bene di Hulk va bene e lo andiamo lo andiamo a ci andiamo a mettere un liquido bello old time anche lui nel senso che questo tivano tabacco speziato cioccolato e amarena questo tivano ha un anno quasi un anno a novembre fa un anno e quindi per quello old time non perché sia di vecchia concezione ma perché è vecchia è a un anno quindi bene andiamo a bagnare la coil al solito va bene una goccia sugli avvolgimenti se l'assorbiscono un'altra goccia se l'assorbiscono si può dire se l'assorbiscono vabbè ce ne stiamo fottendo un'altra goccia ancora e ancora un'altra goccia va bene ora bagniamo un po i baffi va bene ecco qua vedete chi ci ha voluto guarda questo bagniamo un po i baffi è inutile che li bagniamo fino alla morte perché tanto il cotone sarà sempre a contatto con il liquido e andiamo a mettere il cap va bene ok sto cap è simpatico perché c'è una finestrella va bene che ti permette di vedere che cosa succede all'interno va bene qua cazzi va a far quello della resistenza e aspetta che tolgo il l'anello protettivo così lo vedete meglio ecco vedi quindi tu puoi vedere belle tutte le reazioni chimico fisiche che succedono dentro così ti diverti e ridi e ti diverti bestia comunque il refill lo si fa da sopra assicuriamoci che l'aria sia chiusa l'aria è chiusa e riferiamo mettiamoci questo bel tivano invecchiatissimo che è una fucilata di quelle stratosferiche questo liquido ecco qua va bene inutile che io lo riempia tutto ha una capienza di 5 ml veri d'altra parte va bene va bene così va bene così magari al contrario chiudiamo va bene ecco qua mettiamo il drip tip quello suo originale della scatola e montiamo il tutto sul tubo da 25 perché così è bello vedi che bello sto tubo vedi e c'è il tubo la comodità del tubo la bellezza del tubo è un atom mtl da 25 ma mtl è inutile che ci conto il gun da 20 il nuovo gun da 25 perché mi chiedevo fare nuvolone apro l'aria quel tanto che mi basta va bene facciamo così e si fuma vedete che succedono le reazioni biochimico fisiche sti cazzi comunque prova di sbapo e allora spero che mi vediate per la prova di sbapo sarà il 25 con tivano invecchiato quasi un anno tubo ts mod questo sono io il muro fa parte della mia stanza basta questo divano è fatto a nicotina e 5 questo ha un hit bello pronunciato quasi ai livelli del siren v2 un po meno un po meno un po meno funziona alla perfezione la coil ballisce che è una meraviglia cosa chiedere di più l'aroma forse uno potrebbe chiedere qualcosa in più di aroma ma questa cosa è ben passata dal fatto che ci ho feccato dentro un liquido liquido di quelli fatti bene e quindi ci vuole un atomizzatore proprio male disgraziato maledetto per ammazzarti la roma siren 25 bravo belli e compratevelo se ancora lo si trova ciao ne